Eccoci qua, vi presentiamo oggi il nuovo arrivato, un rimorchio Viberti, lo vedete in questo momento inquadrato, è il classico modello Viberti 22R10CV, tendo a precisare che è uno degli ultimi rimorchi che sono stati prodotti negli stabilimenti torinesi di Michelino. Viberti una garazia, è un anno 2003, le principali caratteristiche, lunghezza 7,60 m, 2,55 m di larghezza. L'altezza delle sponde è come potete vedere 1,10 m più 600 e più come la chiamiamo noi dall'alto delle nostre camminhe, guardate qua, c'è la cappannina più una copertura per cereali Zamuner, perfettamente revisionata, telo immacolato, guardate il telo, stiamo inquadrando meglio, è stato appena rifatto, lo vedete in questo momento, come rimorchio è stato sabbiato, riverniciato, è stato appena revisionato, quindi lo trovate già a posto di boccole, ralla, ecco avviciniamoci perché il pezzo forte non ve l'ho ancora detto ma cerchi in lega, a sali, saf, ma soprattutto freni a disco amici, questo lo trovate veramente già in perfetto ordine, quindi lo potete già agganciare, è un rimorchio veramente che non ha bisogno di nulla, guardate un po' se riusciamo a rinquadrare poi il telaio, telaio sabbiato e riverniciato completamente, se riusciamo ad andare ancora più sotto nel dettaglio, ecco questo rimorchio monta anche una valvola livellatrice per il ribaltabile, ecco se riusciamo perché vedete, facciamo ancora un bel giro perché fra le cose che volevo farvi vedere, le gomme che ancora sono al 60%, questo non è un problema, se volete lo possiamo anche cambiare con delle gomme nuove, a sali dicevamo saf con cerchi in lega speedline, tutto in perfetto ordine, cassettone in acciaio inox, andiamo ancora avanti perché bocchetta scarico cereali, paraurto in acciaio inox, montante in acciaio inox, ma soprattutto cassa bilaterale in lega leggera RAO, ecco dovete sapere che questo ribaltabile così pesante il rimorchio completo non arriva a 50 quintali, quindi è una terra davvero considerevole, ecco è un anno 2003, se volete ancora informazioni soprattutto sul prezzo di questo rimorchio potete anche chiamarci al nostro numero che è 071-9198-295, lo vedete in questo momento sta in sovraimpressione 071-9198-295 guardate ancora questo rimorchio, facciamoci un bel giro perché veramente questa mi ci merita, guardate qua, ditemi voi se oggi trovate un rimorchio così, già in perfetto stato, in quanto ad ordine, manca solo l'assicurazione e ve lo venite ad agganciare, con questo rimorchio possiamo andare subito a lavorare, timone ricordo, ecco se avete magari qualche timore come diciamo noi che si agganci non c'è problema perché è la versione lunga di questo timone, quindi è 1.900, ecco io mi soffermerei, guardate un po' il telone di questo rimorchio, si vede già che è tenuto in perfetto ordine, ricordo ancora è un anno 2003, sponda altezza 1.100 più 600 e più abbiamo 400 la punta, la capannina come la chiamiamo, come l'arrotolatore copertura Zambole, bene ricordo ancora il nostro numero 071 91 98 295, chiamateci per informazioni, bene amici con questo è tutto, io vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per avere sempre le recensioni, ogni volta quindi che pubblicheremo un nuovo video con un nuovo arrivato o che si tratti di rimorchio, semi-rimorchio con i nostri usati, troverete sempre quindi sul vostro cellulare, sul vostro computer, l'avviso che abbiamo appena inserito un nuovo prodotto e se volete trovate anche la nostra pagina relativa agli usati dove potete vedere questo video, dove potete avere ancora tutte le caratteristiche, magari qualcuno si fosse dimenticato qualcosa, lo ricordo il sito è www.rao.it, seguiteci anche nei nostri canali social ovviamente, ancora grazie e ci vediamo nel prossimo appuntamento.